Vinicius Oliveira è terminata la gara con l'Ecosity con una sconfitta, non è bastata una grande ripresa per portare a casa dei punti. Abbiamo votato tutta la partita, abbiamo cercato di mettere il nostro gioco e non siamo riusciti a mettere il nostro gioco e portare il risultato a casa. Peccato soprattutto perché nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa di più. Sì, sì, certo che si poteva fare di più, non abbiamo giocato quello che sappiamo nel primo tempo e abbiamo sbagliato in questo e dobbiamo cercare di risolvere. Ripresa con il gioco a 5 avete messo in difficoltà quella che è forse la migliore squadra vista fino ad ora al Palaunima. Sì, sì, abbiamo lavorato tante settimane il gioco a 5, pure il gioco loro, così sapevamo cosa fare e abbiamo fatto, però non siamo riusciti a portare il risultato. Prossima tappa Pescara, partita che sulla carta può sembrare facile, ma questo campionato ci ha detto che nessun match è dall'esito scontato. Sì, sì, nessuna partita è facile, dobbiamo andare a pescare sapendo già che è una partita difficile e dobbiamo cercare di portare il risultato a casa.